Ciao a tutte ragazze, allora sono qui per ripetervi il concorso dato che finora ha partecipato una ragazza soltanto Allora, il concorso è fatto in collaborazione con piccola me 5 che sarebbe Denise Appena vedi il video Denise posta il tuo video dei premi sotto appunto questo video Allora, il concorso scadrà il 15 settembre Naturalmente se parteciperanno due o tre persone il concorso verrà appunto verrà annullato I premi a mio parere sono favolosi perché sono tutti i premi marcati Kiko Quindi appunto sono dei bei temi Poi il tema del concorso è cinema Praticamente voi scegliete un film, il vostro film preferito e vi ispirate appunto a o al titolo 1 o al titolo di film Ad esempio, che ne so, la carica di 101 E fate un make up su toni del bianco e del nero Poi nella carica di 101 vi è Crudelia Demon Se vi piace Crudelia Demon e non volete ispirarvi al titolo Fate appunto il make up che è su Crudelia Demon in quella specie di film Oppure Il Diavolo vs Prada Di film e di titoli ce n'è moltissime Quindi spero di essere stata chiara Mi raccomando partecipate E se no anche quelle povere ragazze che parteciperanno Se sono 3 o 4 è inutile secondo me stare a dare premi Per questo concorso Ci sono 3 classificate Quindi c'è più possibilità di vincere rispetto magari a altri concorsi Spero che avete capito Un bacio, ciao ciao